Vedi il macaquito, questo si va, lì che c'è l'oro lì. Con questo tu sei ciupata questa. Questo è qua. Questo c'è da fuori, ma come è là? Allora, qui dovevi? Allora, c'è da fuori un maschio come? Piove? No, piove, si. Se la femmina sta dentro non piove. Allora, c'è da fuori, guarda, capi? È un maschio, no? C'è da fuori, guarda. Domani piove. Guarda, facciatevi, chi trova? Andiamo. Dai Santi. Sì, guarda. Ah, su, Dio. Su, di Adrasu. Come si chiama questo gioco? Briscola. Briscola. Ah, vabbè. Briscola. Ma solo questa, perché qui sembra l'altro di due. Sì, non c'è questo per quella là, perché... Ma senti, buttatela io, perché lì non prendete più. No. No. Ciupate questa. Qui ciupate questa. No, no, io sono io, eh. Io non prendo, alle coppie non prendo io. Beh, là sugiate. O tre? Beh, sei là su là. Ciupate. 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 Chiupate? Ciupate, ciupate. Dai, dai. Eh, a voi viste? Eh, a voi viste? Ma capisci, non capisci? Dai, non capisci, no? È poco di... Ciupone ci buoni e tanti, eh? Eh, io sono fatto di quattro. Ah, vedi che cosa vuole inserci? Io, esatto. Cos'è un arbitro o sei arbitro? Allena Ure, quello inserci. Ah, Giambierro dove è? Giambierro Re, sì. Alla Lieve. Alla Lieve. Alla Lieve. Alla Lieve. Alla prima Lieve. Alla Lieve. Vos lo passiamo Vero, se dice, grabate. Alla prima luna si va a grabare. Si. Antonello, questo è obvio. Passiamo Vieto con il compagno di Lieve. Ah, punto. Eso andava nella Lieve. Si. La Lieve al nena pure. Che? Antonello? Antonello è la Lieve al Navea Lieve. Esatto. Che va a Sambuchetto. Io non ci sta più. Io sono la Lieve al Navea Lieve. I piccoli sono da Lieve. I piccoli sono da Lieve? I piccoli sono da Lieve al canto grande. Chi è questo? Pippo. Chi è Pippo? Fa carabinieri fa. Pippo è giù? Si. No, ti ricordi? Maresciallo. 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 No, vieni ai cittadini. Maresciallo. Che è l'Ancona che si resta? Non so. I pomeriggio. Cioè pomeriggio stavano dicendo quello. E? E? E l'Ancona. E? E? E l'Ancona. che fuori con chi fai? con il 4 no no, comanda ora ma come il viano tu fanno con i cammini ma come tu fai lì lì ha proprio con i paci ah stai fregato ah stai fregato ah stai fregato andate che stai furba eh Ma è piaduto Non muoca quella Lo vuoi? Non muoca la coutinho Ma devi fare muoca la coutinho quella lì Non puoi ce l'ho più Dai Dio Ma già avuti Cerretta E' un po' C'è un po' E' un po' Non c'è un po' E' un po' Ma è un po' E' un po' M'agrappola E' un po' Ma è un po' Ma è un po' Mi piace vedere la testa Non prendono Non prendono come si è andata? la carta hai una carta una macchina quante foto ha fatto? niente 500? si si è caricato tutto quanto? 170 come si è bebe? non lo so, pilla non lo so no Andrea ha fatto 170 foto oggi si in un paio 20 forte pilla Andrea questo è un ragazzo che ha fatto una ventina di foto un cavallo c'era estrangero un repugno la seconda l'Italia la tavola c'è l'olio l'Italia Francia e Spagna costa meno in Spagna? no, costa meno parla con loro l'olio l'olio 50 è per lui che è in città poi si è preso non contiamo per l'amor di Dio 10 10 10 14 17 19 0 io ho già fuggito vinto no, non ho vinto per niente 43 e 46 44 44 quando è questo? 36? 46 36 36 è in città e L'uomo è in città 15 quando è in città? 44 quando è in città ho vinto in Piaggio Grazie a tutti.